ciao manutentori e bentornati nel mio garage io sono stefano oggi vi voglio presentare un altro prodotto molto interessante che mi ha mandato chic ma questa volta andiamo su un top di gamma livello laser livello laser a tre linee 3 per 360 gradi modello cm 801 andiamola a vedere ma prima vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità se vi interessano gli argomenti che tratto iscrivetevi per me è molto importante poi naturalmente mettete anche mi piace il video spero che vi piaccia e utilizzate i link che lascio in descrizione sia per l'acquisto di questa livella sia tutti quelli che lascio per acquisti su amazon voi non spendete nulla di più e aiutate il canale con una piccolissima percentuale andiamo a cominciare ma prima sigla bene di chigman avevo già provato diversi prodotti diverse livelle metro laser anzi due metri laser insomma è un produttore che mi piace parecchio perché fa dei prodotti seri a livello quasi professionale anche se i costi sono molto più bassi rispetto ai prodotti professionali però di ottima qualità quindi li presento sempre molto volentieri quindi apriamo la confezione e vediamo cosa c'è dentro bene eccola qua laser level cm 801 apriamo subito la confezione dentro c'è una bella custodia in cordura semi rigida brandizzata chigman contraccolla regolabile tutto di ottima fattura apriamola e all'interno che cosa troviamo cominciamo degli accessori qui c'è un cavetto di ricarica usb ovviamente di tipo c qui c'è un telecomando telecomando bluetooth comportata fino a 10 metri libricino di istruzioni anche in italiano che consiglio sempre di leggere anche perché qui siamo di fronte a un dispositivo laser di classe 2 i dispositivi laser di classe 2 hanno una potenziale pericolosità vengono venduti liberamente perché poi esistono i laser di classe 3 che però sono equiparati ad armi niente meno quelli di classe 2 sono sì venduti liberamente però con l'accortezza di non guardarli mai direttamente per più di 0,25 secondi questo significa che è stato stimato che il battito delle palpebre può essere sufficiente a diciamo a mettere in sicurezza i nostri occhi però consiglio sempre di non guardarle assolutamente non guardate le negli occhi sono un po le meduse ecco no possono rovinare la retina siamo seri qui c'è una batteria e qui c'è una staffa incastrata benissimo bisogna fare un po di fatica per tirarla fuori eccola qua una staffa tra l'altro abbastanza robusta ne ho viste di migliori sinceramente alla regolazione in altezza quasi micrometrica diciamo e qui c'è la vite da un quarto di pollice per abitare la livella dietro abbiamo delle potenti calamite facciamo una prova simuliamo un tipico telaio da cartongesso per esempio è effettivamente le calamite tirano più che a sufficienza sotto abbiamo anche dovrebbe essere cinque ottavi di pollice questa qui la filettatura grande per altri tipi di staffa e qui ce n'è un'altra che replica quella che c'è anche sulla livella tiriamo fuori finalmente la nostra livella eccola qua professional tools abbiamo tre per 360 gradi porta di ricarica di tipo c potenza di uscita del laser minore uguale a 1000 watt che è appunto il limite della classe 2 non troveremo mai delle livelle di libera vendita con potenza superiore alimentazione 7,4 volte 2600 mili ampere al litio quindi questa batteria è una 7,4 volte infatti 2600 mili ampere miliam per ora ma dentro ne abbiamo due realtà perché una è già montata sulla livella e questo è molto importante perché noi non resteremo mai a piedi a parte che ha un'autonomia ben più che sufficiente ma comunque abbiamo sempre la possibilità di tenere in carica una batteria tra l'altro le batterie si ricaricano autonomamente direttamente innestando il cavetto tipo c qui eccolo qua sulla testa della batteria e poi utilizzando qualsiasi caricabatterie da telefono che non è in dotazione rimettiamo la batteria e vediamo un po le funzioni le funzioni sono abbastanza classiche per questo tipo di livelli abbiamo qui l'interruttore principale quando è spenta vedete c'è il simbolo del blocco mentre qui c'è il simbolo di play quindi acceso spento in realtà quando è spenta in questo modo le torrette sono bloccate però può essere anche attivata manualmente tenendo premuto qui eccolo qui in questo modo noi abbiamo la modalità bloccata quindi possiamo utilizzarla anche inclinata per disegnare piani obliqui ma la sua principale funzione è quello di essere autolivellante la spengo e la accendo con il cursore a questo punto abbiamo l'autolivellamento l'autolivellamento avviene con un'inclinazione del corpo macchina di più o meno 4 gradi quindi quando la inclino più di 4 gradi inizia a lampeggiare velocemente per dirci che fuori tolleranza quando invece i raggi sono continui vuol dire che è intolleranza e sta autolivellando abbiamo la possibilità guardate di attivare separatamente i raggi verticali v1 e v2 qua ci sono i tasti v1 e v2 e poi c'è h horizontal non si possono spegnere tutte e tre infatti se io adesso spene spengo due poi cerco di spegnere anche quello che è rimasto acceso si riaccende in realtà quindi uno rimane vedete uno rimane sempre acceso a meno che non la spegniamo con il cursore anche in modalità fissa la stessa cosa possiamo selezionare i raggi da tenere accesi ma anche in questo caso non avremo mai tutti e tre i raggi spenti proprio per evitare di lasciare la livella accesa ma con i raggi spenti che comunque consuma della corrente rimettiamola in modalità autolivellante poi abbiamo la possibilità di modulare l'intensità del laser perché se siamo in ambienti piccoli abbiamo la possibilità di ridurla e poi c'è un'altra funzione che è questa guardate questa è la funzione burst burst in pratica abbiamo un lampeggio veloce che non aumenta la potenza del laser ho fatto diverse ricerche su questo argomento non può aumentare la potenza del laser l'idea che avevo io era quella che col lampeggio scendesse sotto ai limiti di diciamo di danneggiamento dell'occhio nel senso che non stando sempre accesa anche se avessimo incrociato il raggio con gli occhi guardato direttamente il raggio questo lampeggio evitava il danneggiamento degli occhi anche se magari la livella andava ad un livello superiore livello a livello scusate ad una potenza superiore in realtà non è così perché nessuna livella laser può essere venduta se supera il millivatt di potenza del laser questo semplicemente è un muovere diciamo il raggio cioè fare un raggio in movimento continuo per renderlo più visibile un trucco se vogliamo per rendere più visibile il laser ma non ne aumenta la potenza ritorniamo in modalità continua tenendo invece premuto il tasto rosso di accensione il led qui inizia a lampeggiare ed entriamo in modalità pulse la modalità pulse è quella che ci permette di utilizzare dei ricevitori ho fatto un video sul ricevitore laser della chic ma ve lo metto qui nelle schede l'utilizzo di un ricevitore laser permette di ampliare notevolmente il campo d'azione quando una livella laser per stessa sua fisiologia per il fatto di avere una potenza del laser che appunto non supera il millivatt di solito ha una buona portata fino a 30 metri dopo i 30 metri alcune livelli ci arrivano soprattutto in ambienti non illuminati o poco illuminati altre invece preferiscono dichiarare 30 metri semplicemente perché dopo la precisione della linea non è più garantita poi andremo qua fuori so di avere 37 metri a disposizione e vedremo più o meno come funziona ed è un ambiente poco illuminato perché nessuna livella laser a raggio verde non ne parliamo di quella raggio rosso comunque nessuna livella laser riesce autonomamente ad essere efficace in ambienti esterni non ne parliamo col sole a questo servono i ricevitori laser nel video che vi ho linkato prima in pieno sole utilizzavo il modello inferiore di questa la cm 701 mi pare ora 702 comunque una dei suoi modelli inferiori che però come potenza sono uguali utilizzavo quel modello e andavo fino a quasi 100 metri di distanza con il ricevitore laser i ricevitori servono a quello anche perché anche a pochi metri di distanza in pieno sole non c'è visibilità dei raggi laser questo indipendentemente dalla marca che comprate comprate una the world comprate una bosch comprate una like non ce n'è una che è visibile in pieno sole perché è proprio una questione di legge se vogliamo cioè la potenza del laser non può superare quel top spegniamola ecco faccio notare che la differenza tra una livella seria e una è anche il fatto di bloccare i laser nel momento in cui la spegniamo guardate ora io la metto in posizione autolivellante le torrette sono libere sentite questo battito è proprio la torretta che batte all'interno perché libera e nel momento in cui io inclino la livella le torrette si mettono oblique quando la vado a spegnere c'è un meccanismo che mi riporta le torrette perfettamente verticali quindi poi quando la volessi accendere in modalità fissa le torrette saranno già verticali non mi troverò mai ad accendere questa livella con le torrette inclinate questo purtroppo capita in altri modelli in questa no ultima cosa che volevo far notare la quasi totale gommatura del corpo non è una gommatura particolarmente morbida anche perché questi non sono apparecchi che si sono in mano questi sono apparecchi che si montano su dei supporti anzi andiamo proprio a montarla sul suo supporto a notare che le filettature qui sono in ottone e non in plastica sono tutti piccoli particolari che distinguono una livella seria da uno un po meno ecco ecco qua ecco una volta montata sul supporto vedete la possiamo regolare in altezza ci sono dei supporti che hanno anche la possibilità di inclinarla questo invece no è un supporto molto semplice in effetti potevano sprecarsi un po di più con questo supporto non ha la possibilità di regolare né l'inclinazione in senso verticale nel senso orizzontale è così e basta non vi ho ancora parlato del telecomando che è l'ultima cosa da vedere accendiamola di nuovo e a questo punto le stesse funzioni le posso replicare sul telecomando spegnere i raggi verticali accendere e spegnere il raggio orizzontale e in più a ridurre la potenza del laser e utilizzare la funzione burst col telecomando non possiamo attivare la funzione pulsi poco male perché comunque è una funzione particolare che utilizziamo in abbinata appunto con ricevitore laser e quindi andare direttamente sul corpo della macchina della fotocamera stavo dicendo scusate e quindi andare direttamente sul corpo della macchina ad attivare la funzione pulse diciamo che non è tutto questo male ecco ora andiamo qua fuori nella corsia garage dove ho appunto i 37 metri a disposizione e facciamo una piccola prova ecco la nostra livella accendiamola bene ora vediamo un po qui siamo al al limite della corsia vedete e qui vediamo un po fin dove riusciamo ad arrivare seguiamo un po il raggio adesso l'illuminazione è tutto sommato abbastanza alta nel senso che da questo lucernario che vedete nel soffitto eccolo qua entra un bel po di luce allora qui siamo a circa 15 metri qui siamo a 20 metri 25 si vede ancora andiamo sul fondo il fondo sono i famosi 37 metri di cui parlavo prima ed ecco che si vede ancora ed ecco che si vede ancora il raggio chiaramente dove non è coperto dai veicoli e si vede anche la cosa importante è valutare anche lo spessore del raggio che è di circa un centimetro ci sono altre macchine che hanno un raggio ben più ampio comunque siamo già ben oltre la precisione che si può attendere da una macchina del genere in ogni caso il raggio abbastanza definito non è sfarfallato e quindi va bene perché comunque ci consente di avere comunque una buona precisione eccola la nostra livella ora vi faccio vedere un attimo la funzione burst inseriamo la funzione burst eccola qua e qui abbiamo vedete un lampeggio e questo rende tutto più visibile si è spenta la luce meglio così eccola vedete naturalmente in questo modo anche lì guardate in questo modo è tutto molto più visibile a colpo d'occhio anche dove qui per esempio che è un'area molto più illuminata vedete che la linea lampeggiante è più visibile proprio a colpo d'occhio ok possiamo tornare in garage bene allora che dire di questa livella è una sigma e questo è già una garanzia per me è robusta è tra l'altro è non vi ho detto che tutte le torrette sono in alluminio vero non plastica che sembra alluminio cioè ha una serie di caratteristiche che la rendono una livella paragonabile a molte professionali che ci sono in giro in più a degli ingombri che non sono esagerati è più grande rispetto alle sorelle inferiori ma perché perché ha la batteria intercambiabile altra funzione molto utile e molto importante anche perché appunto così possiamo sempre avere una batteria carica anche se dovessimo esserci dimenticati di metterla in carica il giorno prima e avere una lunghissima sessione di lavoro che magari ce la fa scaricare possiamo sempre a patto di essersi ricordati di caricare la batteria aggiuntiva possiamo sempre contare sulla seconda batteria da inserire quando vogliamo e nel frattempo rimettere autonomamente in carica la batteria che togliamo e questo è molto importante non è l'unica è che lo fa però avere questa caratteristica è una cosa sempre molto gradita io spero che il video vi sia piaciuto e che vi piaccia anche questa livella naturalmente lascio il link nella descrizione del video per l'acquisto della livella mettete mi piace mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornate sulle novità una cosa che non ho detto in introduzione ho una serie di gruppi facebook alcuni dei quali sono amministratore altri quali partecipo come magari moderatore o come semplicemente utente attivo ve li lascio qui nella descrizione del video se volete iscrivervi vi aspettiamo e noi ci vediamo la prossima volta ciao